Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, ringrazio in particolare i relatori, il professor Figgini e il dottor Medei che tra poco presenterò. Vi porto i saluti dell'amministrazione, del direttore generale, il dottor Luca Guccioni, dell'assessore all'innovazione Eugenia Rossi di Schio, dell'assessore Gianluca Brasini che alcuni di voi, credo l'Istituto Superiore conoscono e mi ha chiesto in particolare di salutare voi e tutti comunque. Vi ringrazio perché questa giornata prosegue continuo a un ciclo che abbiamo iniziato in ottobre sulla diffusione e cultura dei dati aperti o anche non aperti, però diciamo dati aperti, quelli che vengono chiamati open data, big data, linked data e comunque i dati che noi possiamo reperire da varie fonti e utilizzare, vedremo in questo caso nel campo del turismo o in altri campi per elaborare, pianificare, valutare. Allora, il professor Figgini è professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna, dove insegna da 2000 e professore straordinario di economia presso la Northwest University in Sudafrica dal 2016. Ha conseguito un dottorato di ricerca in economia presso il Trinity College di Dubolino in Irlanda. Il professore lavora prevalentemente sui temi dell'economia del turismo, insegnando presso i corsi del campus universitario qui a Rimini e collaborando a diversi progetti di ricerca del CAST. Il CAST è il centro di studi avanzati sul turismo dove appunto il dottor Medè svolge un'attività di ricerca e mi piace perché nella sua bio nell'Università di Bologna è inserito che nel tempo libero cammina in montagna, quindi questa è una cosa molto apprezzabile, almeno a me piace molto la montagna. Ci parlerà dell'uso dei big data nella ricerca turistica, portando esempi pratici e casi di studio nell'ambito dell'impatto delle previsioni meteorologiche sulle pronotazioni alberghiere e quello che viene chiamato il cosiddetto meteorologismo, e su come identificare le false recensioni e sui pregiudizi che scaturiscono nelle recensioni online dall'influenza che hanno i social media e anche questo è un tema molto interessante che personalmente non conoscevo, non sapevo che ci fosse questo tipo di pregiudizio. Il dottor Renato Medè invece è ricercatore, segnista di ricerca all'Università di Bologna dal 2007, svolge le sue ricerche nell'ambito della gestione dell'accoglienza, sempre presso il CAST, centro di studi avanzati sul turismo, gli interessi di ricerca sono rivolti in particolare alle relazioni fra la reputazione digitale e le performance operative delle imprese e o delle destinazioni turistiche. Anche il dottor Renato Medè ci parlerà dell'uso del web data per la gestione delle aziende turistiche con esempi pratici e casi di studio sull'impatto delle recensioni online sulla gestione alberghiera e sulla conoscenza delle destinazioni attraverso i social media. Grazie, lascio la parola ai due relatori e vi auguro un buon ascolto. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie innanzitutto per l'invito e per la possibilità di cercare di parlare un attimo, di discutere, di far capire il tipo di ricerca che viene fatta in università, che utilizza quelli che appunto comunemente vengono chiamati big data nell'ambito del turismo, nell'ambito del settore turistico. Come sapete bene Rimini è un'importantissima destinazione turistica e non a caso l'Università di Bologna ha un campus a Rimini che è specializzato nell'economia, nel management, nella geografia del turismo e che in tutta la ricerca ruota appunto, come è stato detto in precedenza, attorno al CAS, il centro di studi avanzati sul turismo, che è un centro di ricerca interdisciplinare che mette assieme diverse competenze per portare avanti diversi filoni di ricerca. Appunto oggi cerchiamo di approfondire innanzitutto un'introduzione generale su cosa sono i big data e come questi possono essere utili alla ricerca universitaria, alla ricerca scientifica e in particolar modo nel settore turistico. Faremo una specie di ping pong, il sottoscritto del dottor Medei, quindi la relazione ha due voci nel senso che ci sono parti che delineerò io e altre che invece verranno fatte dal dottor Medei e ci sarà uno scambio di microfoni. Quindi direi che possiamo magari iniziare. Una brevissima introduzione sui big data. Ovviamente big data è un termine molto usato, molto abusato a volte, come tutti i termini che sono molto di moda, che diventano di moda, che vengono utilizzati e ripresi dai media, dai social media, ci sono centinaia se non migliaia di definizioni. A volte ovviamente sono contrastanti. C'è un nucleo fondamentale su cui gran parte degli studiosi sono d'accordo. Essenzialmente quando parliamo di big data parliamo di una grande disponibilità di dati di tipi diversi, praticamente illimitata. Sono dati che sono sia strutturati, cioè tipici dati numerici, il tipico dato numerico è la temperatura, oggi ci sono 16 gradi. 16 gradi è un dato strutturato perché indica in maniera precisa quella che è la temperatura in un determinato posto e in un determinato tempo. Sono anche dati semistrutturati, nel senso che possono essere riportati in un'analisi di tipo quantitativa facilmente, ad esempio le recensioni, o meglio più che la recensione il rating che diamo ad esempio a un soggiorno in un albergo. Quindi buono, ottimo e questo può essere facilmente portato su una scala poi da 1 a 10 ad esempio, oppure non strutturati. I non strutturati sono la gran parte dei dati presenti in rete. Sono sia i testi che scriviamo su Facebook, su Instagram, su Twitter, le immagini che postiamo, i video che postiamo, sono tutta una serie di informazioni che sono nel web, che sono in rete e che possono, grazie all'evoluzione enorme anche dei software, degli applicativi e delle capacità di calcolo, degli ultimi anni, possono essere oggi, gli ultimi 5-10 anni, un po' l'evoluzione del data science, quindi della scienza che utilizza Big Data, essenzialmente degli ultimi 5-10 anni, possono essere non facilmente, in maniera difficoltosa, perché ovviamente sono dati più complessi, sono dati più estesi e meno precisi, quindi richiedono un tipo di analisi molto più sofisticata, però possono essere analizzati anch'essi. Vengono analizzati con quello che comunemente viene chiamato data mining, quindi esplorare i dati, esplorare i dati per estrarre informazione. L'informazione serve a produrre conoscenza, quindi un po' quello che viene fatto nelle aziende è data mining, perché bisogna capire, ad esempio, come i clienti giudicano un certo pernottamento in un albergo, dall'analisi di quei dati l'albergo riceve delle informazioni, che traduce in conoscenze, che traduce anche in politica di miglioramento della gestione alberghiera, ad esempio. Sono essenzialmente i Big Data una delle conseguenze dello sviluppo enorme delle information and communication technology, quindi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, e il prodotto, in un certo senso collaterale, perché non è essenzialmente il prodotto voluto, della grossa diffusione di tutta una serie di device, di dispositivi digitali, che essenzialmente sono connessi in rete. Nel momento in cui sono connessi in rete, trasmettono informazioni in maniera istantanea e queste informazioni, come vengono trasmesse da un utente all'altro, vengono anche immagazzinate, registrate nei grandi server delle società che gestiscono questi dati e quindi poi possono essere utilizzati. Ciò che accomuna i Big Data, a volte i Big Data vengono caratterizzati dalle cosiddette 3V. Le 3V sono volume, velocità e varietà. Volume perché essenzialmente i Big Data sono infiniti. Ci sono anche dei saggi molto belli che sono stati scritti recentemente sulla crisi del concetto di infinito nella società contemporanea e digitalizzata. Perché l'infinito nella storia, nella filosofia, nella letteratura ha sempre avuto un che di misterioso, di irraggiungibile, qualcosa che è in qualche modo al di là della nostra realtà e della nostra esistenza. essenzialmente si dice che i Big Data rendono l'infinito raggiungibile perché oggi possiamo sapere tutto. Con Spotify possiamo ascoltare tutta la musica del mondo tranne qualche piccolo artista che ancora non ha ceduto a Spotify però essenzialmente abbiamo a disposizione tutta la musica del mondo. In Facebook praticamente possiamo ascoltare, parlare con tutte le persone del mondo collegate. Quindi in qualche modo questo volume, questa abilità e potenzialità a tracciare qualunque cosa che possa essere digitalizzata, quindi che lascia una traccia digitale è la prima caratteristica fondamentale dei Big Data. E poi c'è la disponibilità temporale. Qualcuno posta su Instagram in questo momento in Australia quello che sta facendo, un millisecondo dopo noi possiamo leggerlo. Quindi questa capacità, questa velocità di avere disponibilità in tempo reale di tutti questi dati. La terza V rappresenta la varietà. Quindi abbiamo una eterogeneità di dati che sono incredibilmente diversi. Abbiamo numeri, abbiamo immagini, abbiamo testi, abbiamo audio, abbiamo video, abbiamo recensioni, abbiamo saggi scritti, abbiamo film, abbiamo di tutto. E provengono da fonti diverse, perché non soltanto dal telefonino, non soltanto dagli applicativi che abbiamo sul telefonino, ma anche, ad esempio, questo RFID, Radio Frequency Identity Device, è essenzialmente il badge. Il badge che molti di noi, almeno io e Renato sicuramente abbiamo, forse anche qualcuno di voi, teniamo in tasca per entrare nei nostri uffici all'università, hanno un dispositivo a radiofrequenza che trasmette automaticamente il fatto che stiamo entrando in quell'edificio. Quindi c'è la registrazione del nostro spostamento. Il nostro telefonino ha un dispositivo GPS che è in grado di localizzarci e come siamo localizzati noi possiamo localizzare anche la posizione dei nostri amici. Foursquare è un applicativo che essenzialmente permette di capire dove sono i nostri amici e cosa stanno facendo. Sensori. A me piace camminare in montagna, uno dei filoni di ricerca che sto iniziando a seguire è quello del turismo in montagna e una delle maniere con cui si capisce, si cerca di capire quante persone vanno a camminare in montagna è essenzialmente mettere dei sensori sul sentiero con una fotocellula, con un piccolo trasmettitore che trasmette il passaggio delle persone su quel sentiero. Quindi abbiamo una capacità di, una varietà di dati che è incredibilmente enorme, diversa. È un tema molto alla moda sicuramente, oggi è una delle parole chiave con cui anche la Commissione europea cerca di finanziare i progetti di ricerca. Ci sono delle parole chiave e Big Data sono una di queste parole chiave. Perché? Perché essenzialmente sono un filone di indagine incredibilmente promettente. Si possono fare tante cose. Dal punto di vista della ricerca, noi non ci occupiamo di quello che Facebook o Amazon fanno con i nostri dati. Questo è un problema che dovrebbe essere trattato, che viene trattato sicuramente da loro e dai governi che in qualche modo dovrebbero regolamentare tutte le questioni relative all'utilizzo dei dati, alla privacy e via dicendo. Noi cerchiamo di utilizzare questi dati dal punto di vista della ricerca, per le finalità della ricerca. Come è stato detto all'inizio, non sono propriamente dei dati open. Sono dati che però noi cerchiamo di aprire. C'è anche qua una discussione che va avanti da lungo tempo sulla possibilità di utilizzare dati. Nel momento in cui voi utilizzate la app di Instagram, state accettando tutte le condizioni, i termini del contratto con Facebook, che è la società che è proprietaria di Instagram. Quindi i vostri dati diventano proprietà loro. Quello che scrivete, le foto che postate su Instagram diventano proprietà di Facebook. Chi si occupa di open data dice che essendo questi dati pubblicamente disponibili, possono essere utilizzati liberamente da tutti. Cosa significa? Significa che io potrei entrare in booking.com, leggermi le recensioni di un albergo e copiarmi la mano ad uno ad uno. Nessuno mi impedisce di farlo perché quella pagina è pubblica, può essere invisibile a chiunque. Come posso trascrivere a mano tutte le recensioni, dovrebbe essere possibile anche utilizzare dei metodi un pochettino più sofisticati per prendere questa informazione. È la cosiddetta attività di data scraping, quindi attività più o meno automatica di identificazione dei dati e di estrazione e salvataggio nel locale per poi fare un'analisi di ricerca come nel nostro caso. Allora, in questo caso quello che facciamo noi è essenzialmente un'attività di utilizzo di dati che sono pubblicamente disponibili per finalità, e questo è quello che è veramente importante, per finalità di ricerca, di conoscenza e non per finalità commerciali. Allora, quello che le società nei loro termini e condizioni, che almeno io mi sono letto lungamente, penso anche a Renato, prima di iniziare a fare queste ricerche per capire se stiamo infrangendo qualche legge oppure no, allora quello che c'è scritto nelle termini e condizioni più o meno a pagina 827, cioè che essenzialmente i dati non possono essere utilizzati per finalità commerciali. Per finalità non commerciali, che essenzialmente nel nostro caso i dati possono essere utilizzati. Per essere sicuri, quello che normalmente facciamo è cercare di comunicare con queste società, è molto difficile perché hanno ovviamente una portata mondiale, non si occupano del singolo ricercatore dell'Università di Bologna, però diciamo, stiamo iniziando una ricerca, faremo questo tipo di estrazione dei dati, relativo, che ne so, agli alberghi di Rimini nell'estate del 2018, se avete qualcosa da incontrare alla nostra attività, vi prego di farcelo sapere. Finché, come dire, manteniamo questa linea, stiamo facendo qualcosa che sia nella legalità e sia permette poi di, come dire, produrre, si spera, conoscenza utile al miglioramento delle nostre società. I pro dei big data, che appunto cerchiamo di aprire con la ricerca scientifica, è che è un passo in avanti incredibile rispetto al metodo tipico di conoscenza che abbiamo dei comportamenti umani. Normalmente quello che in università si fa, ma non soltanto in università, per cercare di capire il comportamento dei consumatori, il comportamento degli elettori, in vista delle elezioni politiche, è essenzialmente il questionario. È un'indagine campionaria sulle abitudini di consumo di una certa categoria di consumatori. Ora, l'indagine campionaria ha molti pregi, chiaramente molti limiti. Bene, essenzialmente con i big data il campionamento teoricamente non è più possibile. Perché? Perché abbiamo la popolazione a disposizione. Quindi possiamo estrarre i dati di tutta la popolazione, in maniera precisa, veloce, piuttosto che andare sul campo, metterci lì con il nostro questionario, intervistare un campione rappresentativo, poi c'è la difficoltà di costruire un campione rappresentativo di una popolazione che non conosciamo. Quindi è molto più veloce, è molto più preciso, e ripeto, abbiamo la possibilità di studiare direttamente la popolazione, non un campione più o meno rappresentativo di essa. Quando si parla di analisi sulla popolazione, si utilizza il termine un po' agghiacciante, esperimenti in vitro. Perché? Perché il ricercatore fa finta di essere in laboratorio, fa finta di essere in laboratorio, in cui il laboratorio è essenzialmente composto dalla popolazione complessiva, da cui estrae dei dati e che studia. E questo porta enormi sfide per la statistica, per la scienza dei dati e in generale per la ricerca scientifica. E ovviamente porta anche alcuni contro, alcuni aspetti negativi. Il rischio di dimenticare cosa stiamo studiando, cosa vogliamo studiare. È bello lavorare sui dati. Io mi diverto tantissimo perché mi metto lì, con il computer, con il mio programma di analisi statistica, mi metto a lavorare i dati, vengono fuori delle cose carine, però poi bisogna chiedersi queste cose carine a cosa servono, a che domande di ricerca vogliono rispondere e cosa vogliamo sapere dei dati. Allora, spesso quello che succede in ricerca, ci sono dei ricercatori che diventano talmente entusiasti di questa analisi che producono dei grafici bellissimi, complicatissimi, e poi dici, ma cosa vuoi dire? Qual è la teoria? Qual è l'aspetto teorico? Qual è l'aspetto che vuoi validare o meno? Quindi il rischio forte di tutta questa attività di data mining che viene fuori negli ultimi dieci anni, più o meno, è di dimenticare la teoria che deve essere sempre alla base e che deve guidare la nostra ricerca. Si parte da un'osservazione. Dall'osservazione bisogna astrarre quella che è un po' il ragionamento, quello che è un po' il comportamento, quella che è la teoria che può spiegare un certo fatto osservato, e poi sulla base della teoria, la teoria viene messa a confronto con un'analisi strutturata di dati e su questo poi bisogna capire se la teoria è valida oppure meno. Quindi si rischia di diventare schiavi dell'automazione e degli algoritmi. Nel settore turistico i big data sono, uno, importanti, e in secondo luogo sono molto utili anche per la ricerca. Questo perché innanzitutto il turismo ha alcune caratteristiche fondamentali che altri settori dell'economia non hanno. Molti di voi, se ho ben capito, provenite da istituti del turismo. C'è un istituto del turismo e c'è. Nelle università dei corsi di laurea in economia del turismo non ci sono corsi di laurea in economia dell'automobile o in economia della scrivania o in economia del microfono. Perché? Perché il turismo è un settore che ha alcuni elementi di complessità e di peculiarità che altri settori dell'economia non hanno. Se voi siete interessati a comprare un telefonino, come consumatori andate su un sito di analisi comparative, trovate dispositivi dell'Apple, della Samsung, della Huawei, della Honor, di tutte quante, mettete a confronto e poi sulla base delle vostre preferenze, del prezzo e delle caratteristiche decidete cosa comprare. Che la Huawei sia coreana, giapponese, cinese o svedese non ha assolutamente nessuna importanza. Nel turismo, il luogo in cui la vacanza viene esperita è fondamentale. Quindi non andate in vacanza all'albergo pensione Pinco Pallino, ma andate alla pensione Pinco Pallino perché volete andare in vacanza in un certo territorio. La conseguenza fondamentale di questo aspetto, di questo elemento del turismo è che la competizione in questo settore non è soltanto o non è solo fra aziende che producono servizi diversi e che sono in concorrenza fra di loro, ma essenzialmente una competizione fra territori, fra destinazione. E la destinazione è un sistema complesso che è fatto di coordinamento fra gestori diversi che producono servizi complementari, non sostituti, complementari. Cioè significa che per andare in vacanza avete bisogno dell'albergo dove dormire, del ristorante dove mangiare, se andate al mare avete bisogno di servizi di spiaggia e via dicendo. Quindi tutti i servizi complementari che necessitano di un coordinamento fra le diverse aziende e che necessitano soprattutto di un coordinamento fra gli aspetti organizzativi e infrastrutturali della destinazione che sono essenzialmente gestiti dal settore pubblico e dai gestori dei servizi di leisure che sono essenzialmente gestiti dal settore privato. Quindi è un sistema incredibilmente complesso tale per cui c'è bisogno anche dal punto di vista della formazione di facoltà, di corsi di laurea ben specializzati. Non soltanto quindi è complesso e quindi si sposa bene alla complessità dei big data ma è anche un settore guida nell'e-commerce. Il commercio elettronico nasce nel turismo. I primi servizi che vengono venduti online sono i viaggi, sono i biglietti aerei. E ancora oggi è il settore con la quota maggiore di commerce all'interno dei paesi Ocse. Il turismo è fondamentale non soltanto perché ha introdotto ad esempio appunto il commercio online ma pensate, sicuramente vi sarà capitato di dover prenotare qualche vacanza e cercare un albergo e vedere che i prezzi variano di giorno in giorno. O i biglietti dell'aereo. Oggi costa 100, domani costa 120, fra due giorni costa 80. Questo mette angoscia perché non si capisce quando bisogna comprare questo maledetto biglietto. Ora questa strategia, che è la strategia di prezzi dinamici è stata introdotta da, anche in questo caso, dal settore dei viaggi da una compagnia aerea ancora negli anni 70 se non sbaglio era l'American Airlines, mi sembra di ricordare. Pensate a tutta la sharing economy. Sharing economy è una delle grandi innovazioni organizzative nel senso di organizzazione del mercato degli ultimi anni. La sharing economy nasce nel settore turistico. I primi beni o i beni più importanti che vengono scambiati sono il pernottamento in case private, quindi pensate a Airbnb il passaggio in macchina bla bla car quindi in qualche modo sempre legato ai viaggi e via dicendo. Quindi è un settore molto innovativo da questo punto di vista. È un settore molto innovativo perché è uno dei primi a introiettare la capacità di utilizzare la grande mole di connessioni di dati disponibili in rete. Quindi essenzialmente è un settore complesso quindi si sposa bene con la complessità dei big data ed è un settore molto innovativo che utilizza i big data per creare innovazione e quindi è un settore che è anche fondamentale da studiare. È un settore che spesso sfida le cosiddette autorità costituite. Pensate alla qualità degli alberghi. Fino ai vecchioni come noi quello che facevamo è selezionare un albergo sulla base del numero di stelle. Tre stelle è bene, quattro stelle è meglio, cinque stelle è giusto. Oggi le stelle ci sono, esistono, ma nessuno le guarda più. Nel senso che io personalmente quando prenoto un albergo magari seleziono, tolgo magari le pensioni a una stella dove non voglio andare a volte con le due stelle e poi nel resto scelgo sulla base delle recensioni sulla base del punteggio che gli alberghi hanno e leggo le recensioni, cerco di capire quelli che sono i punti deboli, i punti forti dell'albergo e cerco di capire se si adattano alla mia esperienza. Questo è un modo per rovesciare un meccanismo di costruzione della reputazione. La reputazione di un albergo non è più data dalla capacità di avere un certo numero di stelle ma viene data essenzialmente dalla reputazione, dal capitale reputazionale che nell'albergo si costruisce giorno dopo giorno trattando bene i propri clienti. Questa è una tabella che riassume un po' ovviamente non è una tabella completa come tutte le cose è in divenire cerco di riassumere un po' alcuni degli aspetti che ho cercato di trattare in questa prima introduzione. I dati sono di tipo diverso possono essere user generated spesso si parla di user generated content quando si parla di contenuti che sono pubblicati direttamente dagli utenti. Esempi di questi user generated content sono quelli che vedete Twitter, Instagram, Facebook dal punto di vista dei social media oppure nel campo delle recensioni TripAdvisor, Booking, Airbnb e via dicendo. Questi dati sono essenzialmente pubblici sono disponibili pubblicamente quindi non c'è un grosso problema di privacy i costi per ottenere questi dati sono bassi basta avere una minima capacità di data scraping o avere un buon informatico che lavora con te però dall'altra parte la qualità non è troppo elevata. ci sono poi dati che provengono direttamente dai diversi dispositivi e sono essenzialmente dati di tipo spazio-temporale sono coordinate e dige localizzazione che provengono dal GPS, del telefono, della macchina che vengono dalla capacità se c'è se il telefono sta andando in roaming oppure no provengono dal wifi il wifi è ovviamente posizionato e quindi ci permette di localizzare un certo dispositivo in una certa area qua i problemi di privacy ci sono perché le persone quando utilizzano il proprio telefono e hanno il GPS on sanno che danno l'autorizzazione affinché Google Maps ad esempio utilizzi il GPS per posizionarci sulla mappa ma non vogliono che qualcun altro sappia che noi siamo lì se fugo con l'amante questo dato qua della mia localizzazione deve rimanere segreta quindi ci sono problemi di privacy ci sono problemi di privacy i costi per ottenere questi dati sono alti chiaramente perché sono dati che non sono pubblicamente disponibili dovremmo avere un qualche accordo con la compagnia telefonica che gestisce i telefoni, le reti mobile vi dicendo però la qualità è molto alta e poi ci sono i dati sulle transazioni che provengono sia in termini di prezzi se prendete booking.com avete essenzialmente ogni giorno l'intero spettro di prezzi che gli alberghi pubblicano per tutte le camere che hanno a disposizione oppure se guardate i dati di Google utilizzate dei servizi come Google Analytics potete vedere cosa gli utenti cercano giorno dopo giorno e come mettono in unione le diverse chiavi di ricerca anche in questo caso i dati sono pubblici quindi non ci sono problemi di privacy la qualità dipende può essere alta nel caso dei prezzi perché i prezzi sono precisi può essere media perché chiaramente Google Analytics noi abbiamo la possibilità di prendere quello che Google ci presenta nella sua schermata ma non abbiamo la possibilità di investigare ulteriormente in ogni caso l'utilizzo per la ricerca di tutti questi dati è un salto quantico rispetto alla tipica tabella dopo entrata righe e colonne che essenzialmente tutti i ricercatori hanno utilizzato fino a pochi anni fa osservazioni per riga variabili per colonne analisi di un certo tipo oggi si può fare molto ma molto ma molto ma molto di più i big data non soltanto cambiano il modo di fare ricerca ma cambiano anche la gestione dell'azienda a partire da quelle turistiche grazie allora sostanzialmente abbiamo capito che big data e turismo rappresentano sostanzialmente in qualche modo l'innovazione degli ultimi 50 anni nel senso che i big data si muovono su un'infrastruttura tecnologica e l'ICT è uno dei settori ad alta innovazione o che ha promosso sviluppato innovazione e il turismo a modo suo è un altro dei settori che ha molto promosso innovazione l'uno si è appoggiato all'altro e sostanzialmente insieme hanno cambiato sostanzialmente molti aspetti dal lato del consumo ma anche dal lato dell'offerta allora questo processo di interazione e di crescita della infrastruttura tecnologica sicuramente è iniziato negli anni 70 quando comunque le strutture militari hanno cercato dei sistemi di interconnessione fra di loro e di comunicazione e quello che hanno scoperto e inventato gli ha preso la mano nel senso che sostanzialmente è diventato un sistema di comunicazione globale attraverso i protocolli di interconnessione e quindi internet e qualcosa che sostanzialmente ha fatto sì che sostanzialmente tutti noi cambiassimo il nostro modo di vivere e di relazionarci quindi sostanzialmente l'infrastruttura tecnologica in particolare il web ha cambiato il nostro modo di vivere e di usare le informazioni ma anche di condividere le informazioni inizialmente il modo di usare lo strumento web in particolare era un modo monodirezionale cioè c'era l'utente c'era lo schermo l'utente si interfacciava attraverso un browser per cercare informazioni e quello che poteva ottenere se era molto fortunato e aveva una buona connessione era una certa quantità di informazioni statiche cioè una pagina web con delle informazioni rispetto magari alla destinazione su cui stava cercando informazioni dopo vent'anni il passaggio è totalmente epocale cioè sostanzialmente quando lanciamo una ricerca su un motore di ricerca che può essere google che può essere bing che può essere qualsiasi altro motore che normalmente usate voi avete una quantità di informazioni divise su diversi livelli avete le notizie avete le pagine web avete le immagini e avete anche sostanzialmente tutta una serie di iperconnessioni che vi fanno vedere sostanzialmente qual è il giudizio e l'esperienza che gli altri utenti hanno avuto perché sostanzialmente questo ha fatto sì che il web passasse da una dimensione statica a una dimensione dinamica dove sostanzialmente il dinamico è dato dalle potenzialità dell'utente di condividere contenuti e di fornire informazioni al sistema il web il web 2.0 quindi è il web delle relazioni e delle connessioni o sostanzialmente il web dello sharing quindi passiamo dal modello statico del browser di navigazione al modello di condivisione delle informazioni attraverso i primi social network quindi facebook twitter e via dicendo nel momento in cui da questi modelli l'utente inizia a diventare produttore di contenuti a questo punto è l'utente che prende il controllo rispetto alla macchina e entra nella rete dando contenuti propri e quindi dando una propria impressione cioè dando una propria immagine di se stesso sul web quindi non è più una posizione passiva ma è una posizione attiva di produttore dei contenuti contenuti che inizialmente erano contenuti di tipo intellettuale video immagini pensieri recensioni nel tempo con le device integrate tipo iwatch smartwatch o altri device diventano anche informazioni altamente sensibili prima il professore Ficini diceva che a lui piace andare in montagna che uno degli strumenti di ricerca è il sensore attraverso la posto sul sentiero per avere sostanzialmente il numero degli accessi alla destinazione ma se io non sostanzialmente uso una web community di runner o di walker come strava in un certo modo posso anche ottenere dati direttamente riferibili al soggetto cioè la pressione sanguigna la velocità di camminata tutti i dati che sostanzialmente sono autoprodotti dalla device che il runner o il walker porta addosso e che sostanzialmente ci danno oltre identificazione del soggetto anche l'identificazione di che tipo di attività sta percorrendo quindi sostanzialmente il modo di produrre informazioni e i dati che oggi riusciamo ad acquisire noi come ricercatori ma allo stesso modo anche le aziende per le loro analisi è potenzialmente molto elevato e questo pone il modello delle 3V sui big data in una prospettiva più ampia e introduce il problema del value cioè il valore che noi possiamo ottenere dai big data ovviamente noi come ricercatori otteniamo o vorremmo ottenere un valore in termini di conoscenza cioè produrre sostanzialmente delle risposte scientificamente fondate e delle domande di ricerca le aziende capitalizzano i dati e i big data in termini di valore monetario quindi sostanzialmente cercano di analizzare le informazioni per produrre servizi avanzati che possano incrementare il loro risultato operativo o direttamente vendendo i dati quindi sostanzialmente questo fa sì che la conoscenza sui dati diventi fonte di valore valore che può essere inteso in aspetti sostanzialmente diversi e in modi sostanzialmente non totalmente uniformi nella ricerca sul ancora avanti per favore nella ricerca sul campo turistico sostanzialmente si parla di un passaggio da un modello statico come sostanzialmente era per il web 1.0 cioè l'interazione fra il turista e il provider finale di servizi a un modello dinamico e quindi un modello di dominio turistico del web dove sostanzialmente le interazioni sono molteplici e la capacità di relazionarsi con strutture diverse in punti diversi del mondo è sostanzialmente notevolmente aumentata negli anni 80 se volevate costruire un viaggio la vostra prima attività era quella di recarvi da un agente di viaggio più o meno grande che fosse in grado di fornirvi informazioni sulle destinazioni oggi sostanzialmente interagite con web community che vi danno una percezione della destinazione quindi sostanzialmente vi dicono e vi riportano le loro esperienze di viaggio dopodiché magari vi muovete su una ricerca dei prezzi per la selezione delle strutture del viaggio e sostanzialmente continuate così fino alla fase di post viaggio in cui sostanzialmente condividete nelle travel community anche voi la vostra esperienza di viaggio se andiamo avanti per favore vedete sostanzialmente che quel modello si traduce in una forte interazione con tutti i soggetti che sono presenti sul web quindi l'ispirazione del viaggio la fase di come dire di selezione della vostra destinazione inizia attraverso dei motori di ricerca più o meno standardizzati cioè avete Google che vi dà una percezione ampia e poi avete le travel community come TripAdvisor invece che vi danno una percezione più dettagliata della destinazione da questa passate a piattaforme specifiche per il booking che vi danno sostanzialmente la possibilità di selezionare strutture alberghiere la scelta del viaggio di trasporto la modalità di viaggio quindi l'aereo la selezione del taxi o quant'altro fino a integrarlo col pagamento quindi era quello che sostanzialmente vedevamo prima nella slide del professor Figini avete una parte di contenuti meta le recensioni o il social media poi avete anche la parte di transazione e quindi unire sostanzialmente il dato sulla destinazione anche sulla spesa quindi sostanzialmente siete in grado di capire anche come i turisti spendono e per cosa spendono infine sostanzialmente dopo che tutto il viaggio si è compiuto avete fatto la vostra esperienza nella destinazione che avete scelto il tutto ritorna come comunicazione personale attraverso i social media ora qui c'è il problema nelle aspettative che vi siete creati nella fase di ispirazione la vacanza che avete vissuto e quindi il giudizio finale che voi ne traete molto spesso il processo di creazione delle aspettative fa sì che il vostro giudizio finale non sia un giudizio perfettamente asettico ma anzi totalmente da soggetto coinvolto insomma quindi non è che esprimete un giudizio analitico ma bensì vi lasciate trasportare dalle esperienze dalle aspettative e fate sì che sostanzialmente escano fuori recensioni del tipo ho mangiato malissimo quando siete molto educati per arrivare a parole molto più pesanti nelle varie recensioni che potete trovare su TripAdvisor o sugli alberghi nei vari portali insomma e questo è dovuto sostanzialmente a un bias molto forte fra una differenza molto forte fra quello che avete letto magari ispirato dai giudizi degli altri rispetto all'esperienza che voi avete vissuto tutto questo comunque si muove all'80% tutto attraverso il web e il web che vi in genera delle aspettative più informazioni trovate e già la ricerca è falsata rispetto alle aspettative iniziali in più alla fine la recensione risente molto del processo delle aspettative quindi chi analizza i testi delle recensioni deve anche tenere molto conto di questo aspetto del giudizio falsato dalla esperienza vissuta del turista permettetemi di chiarire una cosa nel dettaglio cioè sostanzialmente io vi dico la lettura delle informazioni per una conoscenza manageriale ok quindi leggere la recensione per trarre informazioni che possono essere utili all'azienda o al gestore della destinazione o al programmatore dei flussi turistici della destinazione ok quindi non parlo di informazioni utili agli altri turisti vi parlo di una lettura per finalizzata alla scelta di informazioni e alla presa delle decisioni perché quello sostanzialmente che fa sì che i social media siano importanti per le aziende è il fatto che questi sono in grado di fornire tutta una serie di informazioni che prima aziende e policy maker in generale non avevano quindi leggerli in una maniera articolata significa sostanzialmente avere disposizione una serie di informazioni che prima non si avevano per una più corretta decisione possiamo andare avanti e tutto è riepilogato sostanzialmente in questa immagine in tutto quell'universo del dominio digitale del turismo voi avete tutte fonti di informazioni fra loro distaccate avete le informazioni sulle prenotazioni avete le informazioni sui pagamenti avete le informazioni sulle recensioni ma se non create delle relazioni fra queste informazioni fra questi dati non siete in grado di passare dal dato singolo all'informazione quindi mettere insieme dati significa ottenere informazioni relazionare fra loro delle informazioni significa produrre conoscenza per essere più chiari se io leggo come azienda o come manager di un'azienda o come responsabile di una DMO i giudizi sulla mia azienda o sulla mia destinazione le singole recensioni possono essere considerate come dei dati singoli quando io le metto insieme cioè sostanzialmente catalogo quelle informazioni ottengo delle informazioni specifiche cioè so sostanzialmente come i singoli turisti hanno valutato le camere del mio albergo o hanno valutato la viabilità nella mia destinazione se io ho queste informazioni ho anche una conoscenza che mi permette anche di prendere delle decisioni cioè hanno valutato male la qualità delle mie stanze sono cosciente di questo so che le mie stanze non vengono apprezzate dai clienti per cui a questo punto devo fare delle scelte strategiche o rinnovo le stanze o sostanzialmente mi rivolgo a una clientela totalmente diversa da quella a cui mi sto rivolgendo in questo momento quindi magari a più grasso profilo di spesa che magari è anche più tollerante verso camere non proprio qualitativamente elevate diversamente come policy maker di una destinazione posso anche scegliere di migliorare la viabilità di quella destinazione incrementare i servizi di sharing quindi sostanzialmente ridurre il carico della mobilità e la possibilità di avere servizi alternativi insomma questo semplicemente mettendo insieme una serie di dati che sono le singole recensioni che ho preso da fonti diverse quindi sostanzialmente capite che i web data e i big data o meglio i big data e il sottinsieme dei web data sono strumenti manageriali molto rilevanti cioè permettono sostanzialmente di affinare la conoscenza e di produrre strategie anche promozionali molto più elevate rispetto al passato le strategie possono essere sostanzialmente divise in più livelli un livello micro cioè sostanzialmente il singolo o l'impresa un livello meso quindi sostanzialmente parliamo di livelli decisionali che aggregano più soggetti imprenditoriali o più partner pubblico privati magari la DMO la destinazione o livelli macro come i global player questo che significa sostanzialmente che tutti i vari soggetti possono trarre informazioni dai big data a seconda della conoscenza che vogliono ottenere e delle strategie che si pongono in essere e che vogliono valutare con il tempo se io sono una DMO e voglio costruire un festival del cinema nella mia destinazione attraverso l'analisi dei punti di debolezza delle recensioni positive e negative di altri festival del cinema in giro per l'Italia o in destinazioni simili alla mia posso capire sicuramente quali sono gli errori che non devo che non devo porre in atto o sicuramente quali sono le attività legate al festival del cinema che sostanzialmente possono implementare non solo la visibilità ma anche la fruizione stessa del festival semplicemente non è invitare il regista importante l'attore importante fare un festival del cinema ma fare un festival del cinema comporta delle decisioni rilevanti sulla qualità del prodotto ma anche sulle attività collaterali offerte perché nel momento in cui voi come policymaker intendete attuare un film festival ovviamente vi aspettate che questo possa coinvolgere non solo la popolazione locale ma anche attrarre turisti quindi sostanzialmente dovete creare una strategia promozionale ma anche operativa dietro l'attività che è andata a porre in essere diversamente anche i global player le grandi catene alberghiere i grandi provider di trasporti o i ministeri che si occupano di gli enti nazionali che si occupano di promozione delle nazioni sostanzialmente usano i big data o i web data per sostanzialmente mettere in atto delle strategie allora la più banale e ne abbiamo già parlato perché è stata inserita nel è stata introdotta nel campo turistico negli anni 70 è quella dei prezzi dinamici i prezzi dinamici ovviamente sostanzialmente significa vendere a soggetti diversi a prezzi diversi in base alla loro capacità di spesa ma se io non riesco a segmentare il turista o l'acquirente in maniera chiara non riesco a creare un profilo che mi permetta di capire chi ho di fronte sul web non sono in grado di applicare dei prezzi dinamici quindi i big data entrano pesantemente nelle attività di revenue management dei global player molte delle catene alberghiere adesso come adesso introducono nei loro algoritmi anche il numero di ricerche rispetto alla struttura cioè sostanzialmente se io sono l'hotel Holiday Inn Express che sta in centro a Londra e vengo cercato e so che sostanzialmente questo hotel viene cercato in quantità molto rilevanti per una certa data automaticamente il mio sistema gestionale globale aumenta il prezzo delle strutture di un tot predefinito perché comunque sa che c'è molta richiesta quindi sostanzialmente e questo viene fatto monitorando semplicemente i Google Analytics o il numero di accessi al sito web stesso della struttura quindi sostanzialmente tutti questi dati servono per migliorare la conoscenza ma anche migliorare la profittabilità delle aziende perché sostanzialmente l'importante per la gestione delle destinazioni e delle aziende è strutturare la conoscenza e essere in grado di avere un vantaggio competitivo dovuto alla scelta di buone strategie e questo oggi i big data e i web data specialmente nel turismo lo permettono prima di fare una pausa di una decina di minuti soltanto una introduzione a dei casi studio fino ad adesso abbiamo visto una introduzione generale al tema dei big data nel turismo e come possono essere utili sia la ricerca sia la gestione alberghiera dal punto di vista della ricerca ci sono tanti temi alcuni sono già stati accennati che in qualche modo negli ultimi 5-10 anni sono diventati anche molto importanti dal punto di vista della ricerca il primo elemento che vale la pena sottolineare è appunto quello relativo ai prezzi dinamici oggi tutte le aziende che operano nel settore turistico bene o male utilizzano la strategia dei prezzi dinamici quello che non è ancora chiarissimo è come e se e come queste strategie aumentino realmente i profitti oppure no quindi un tema fondamentale è esattamente questo che relazione c'è fra gli obiettivi aziendali e le strategie di prezzo un secondo tema è l'impatto delle recensioni online le recensioni online che noi scriviamo sono in qualche modo possono essere definite la vera sintesi per quanto la parola vera possa significare una sintesi realistica della qualità della nostra esperienza oppure siamo influenzati da ciò che gli altri scrivono rispetto a quello stesso albergo ad esempio o rispetto a quella stessa destinazione e queste recensioni che impatto hanno sulle strategie di marketing poi innovazione organizzativa è il terzo grande tema oggi si fa un gran parlare di airbnb e di come airbnb stia mettendo in crisi il settore dell'ospitalità tradizionale gli alberghi è vero? se è vero in che modo? quindi qual è l'impatto della sharing economy sulla struttura delle destinazioni turistiche e sul tipo di competizione di concorrenza che c'è fra strutture diciamo tradizionali gli alberghi e strutture non tradizionali di sharing economy e poi le strategie di marketing di promozione che facciamo sui social che facciamo che le aziende fanno sui social media sono efficaci? si possono misurare si può misurare il grado di efficacia di queste di queste campagne di marketing rispetto a quelle più tradizionali fatte sui media tradizionali giornali televisione e via dicendo in questo slide trovate alcuni tra le decine di lavori veramente interessanti che sono stati pubblicati negli ultimi anni qua trovate le reference se siete interessati a come dire ad approfondire i singoli temi potete in qualche modo avere accesso non so se il grosso problema della ricerca scientifica è che c'è un tema che non vale la pena aprire adesso perché riguarda comunque l'utilizzo la proprietà dei dati sulle pubblicazioni scientifiche oggi purtroppo veramente purtroppo le pubblicazioni scientifiche sono su riviste che sono essenzialmente proprietà di grosse piattaforme private e che chiedono un pagamento per accedere alle pubblicazioni c'è una campagna fortissima a livello internazionale nelle università pubbliche che è partita in cui l'Unione Europea sta facendo molto perché ad esempio tutti i lavori di ricerca che sono finanziati da fondi pubblici stanziati dall'Unione Europea devono prevedere pubblicazioni open pubblicazioni aperte accessibili a tutti purtroppo per molte delle nostre pubblicazioni non è così perché se vogliamo non essere licenziati o fare carriera dobbiamo pubblicare su certe riviste se certe riviste sono proprietà di alcune piattaforme private questo è un costo che purtroppo dobbiamo dobbiamo pagare detto questo se siete interessati o se i vostri insegnanti vogliono approfondire poi in classe alcuni temi specifici basta che ci scriviate un'e-mail noi scarichiamo i lavori e ve li passiamo senza problemi comunque qua ci sono dei lavori sia appunto sulle strategie di prezzo dinamico delle compagnie aeree low cost oppure su quelle degli alberghi il quarto lavoro il ruolo questo è un articolo molto bello sul ruolo delle fotografie dell'host in Airbnb cioè come gli utenti qualificano e danno un certo livello di qualità a un Airbnb basato o il grado di fiducia che danno a un listing di un Airbnb in base alle fotografie che l'host decide di pubblicare sul sito quindi se siete carino pulito eccetera eccetera vi danno più fiducia se siete brutto sporchino vi danno meno fiducia questo proprio sintetizzando molto però il concetto che sta alla base è questo e questa è come dire una prima evidenza rispetto ad una intuizione che possiamo avere nostro collega o ex collega Marianne ha pubblicato un paio di anni fa un lavoro sul ruolo di Facebook nella gestione delle destinazioni turistiche trovate anche l'ultimo articolo citato qua sull'analisi testuale come strumento per comprendere la soddisfazione dei clienti su tutti questi temi stiamo lavorando abbiamo lavorato anche assieme a Renato Mayday ma se volete sapere esattamente alcuni temi di ricerca su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando dovrete aspettare dieci minuti dopo la pausa ok grazie 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 grazie